E' strano, di solito quando ti trucchi, o esci o è pianto. Ma perché ti sei mangiata tutte quelle ostie? Mi devono fare un miracolo. Che miracolo ti serve? Tu papà mi avete creata male. Io non sono Adriana. E tu non hai poteri per aggiustarmi. Io vengo da un'altra galassia. Come ti chiami? Andrea. Adri pensa di essere figlia di un alieno nello spazio. Ma tu non sei preoccupata? A me non mi preoccupano le fantasie dei bambini. Mi preoccupano di più le fantasie degli adulti che pensano di essere ancora bambini. Sei andata oltre le canne? E' pericoloso, sai? Soprattutto per te e per quella amica tua. Ma smettetela! Siete voi che fate preoccupare mamma? Ma ho detto di no. Ha detto di no! Ha detto di no! Quella ragazzina vuole essere un marzo. Tu non sei neanche capace di educarla, quella ragazzina. Ma tu e papà vi volete bene? Possiamo separarci. Che separarci? Levati dalla testa questa cosa. Dove vai? Ma è più importante quello che abbiamo dentro o quello che abbiamo fuori? Adri. Dammi un bacio, Adri.